L'edilizia residenziale e sociale nel protagonismo degli enti locali. Questo è il titolo del convegno tenutosi presso l'auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano-Faiano. Al centro del dibattito, che ha visto la partecipazione di numerosi relatori, la necessità di dare impulso all'edilizia sociale in un'epoca di forte crisi economica. È un tema estremamente importante e di grande attualità, perché riguarda un po' il problema di una fascia di popolazione che non è in uno stato di povertà assoluta, ma che comunque fa difficoltà a reperire risorse per trovare un alloggio a condizioni di mercato. Per cui c'è tutto un tema che è volto all'utilizzo di risorse anche dei fondi strutturali europei per poter consentire di mettere in campo dei progetti di edilizia che possano consentire a tante famiglie di avere un alloggio dignitoso, adeguato alle loro esigenze, con un canone di locazione che si è accalmirato e che consenta davvero loro di utilizzare poi altre risorse per soddisfare i loro bisogni primari. È un bisogno che riguarda le giovani coppie innanzitutto, riguarda le persone sole, i lavoratori fuori sede, gli studenti fuori sede, ma riguarda anche tante persone deboli, gli anziani, persone affette da disabilità che hanno necessità davvero di trovare un luogo adeguato all'interno del quale poter anche ricevere cure. Per cui credo davvero che dobbiamo insistere su questi progetti e trovare amministrazioni sensibili come quella di Ponte Cagnano e il sindaco Peppe Lanzara ci dà fiducia davvero per il futuro. Passiamo un attimo alla Treofan. Ria ha incontrato l'ambasciatrice indiana con Andrea Prete. Com'è andata e quali sono le prospettive? L'incontro è andato molto bene, l'ambasciatrice è stata estremamente cordiale, si è manifestata sensibili al tema. Il problema è che stiamo supplendo ad una mancanza assoluta di impegno serio da parte del Governo. Di Maio è venuto qui a fare una passerella il 26 dicembre, se non ricordo male, natalizia, dopodiché è scomparso. Il Governo ha completamente mollato e lasciato i lavoratori soli a se stessi, per cui credo ci sarà un altro incontro lunedì prossimo al Mise nel quale sono convocate le parti sociali. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ho provato a esplicare, a spiegare all'ambasciatrice le difficoltà e la forte critica che noi rileviamo nei confronti della Gindal che ha posto in essere un'operazione di carattere puramente speculativo. Perché acquisire un'azienda concorrente per chiuderla dopo poche settimane è per noi un'operazione che non ha altra qualificazione. Per cui le abbiamo espresso la nostra volontà e la nostra richiesta di contattare la proprietà e lei si è fatta carico di questa nostra richiesta per provare a far rendere conto a Gindal, sia indiana sia la società europea, del forte impatto non solo economico ma anche sociale sul territorio che la decisione di chiudere lo stabilimento di Battipaglia potrebbe provocare. È uno stabilimento che non ha di per sé perdite, è uno stabilimento sano con una forza lavoro altamente qualificata. Per cui davvero non vediamo ragioni per procedere a questa chiusura. Speriamo davvero che qualcosa si riesca a sbloccare nelle prossime ore.